Cosa c'è rimasto da dirci se poi vai con la prima che incontri? Un elegante 19enne originaria di Trapani e molto legata alla sua terra, dal più famoso talent show Amici a Bari, Carmen Ferreri ha incontrato i suoi fan in occasione della presentazione del suo nuovo album di inediti dal titolo Più Forti del Ricordo, che vede la produzione artistica di Carlo Avarello. Per una ragazza come me, così piccola, perché ancora ho 19 anni, è un bel sacrificio perché per me stare lontano dalla famiglia significa veramente stare lontana dalla cosa che più amo, quindi è molto difficile, però mi piace perché comunque sto a contatto con i ragazzi che mi vogliono bene e comunque visito l'Italia e comunque la visito in tutti i posti, in tutti i posti più belli, persone che veramente capisci da dove vengono, ed è bello per quello, è bello conoscere persone nuove, posti nuovi, è bello. Una crescita professionale dell'artista che continua senza sosta, una giovane cantante siciliana, una ragazza istintiva e solare che grazie ad una voce straordinaria è stata capace di ritagliarsi uno spazio all'interno del talent di Amici e che oggi punta a fare altrettanto nel panorama pop italiano. Il mio album è uscito l'8 marzo che si chiama Più Forti del Ricordo e l'emozione è grandissima perché ovviamente vedere quei ragazzi che sono lì pronti per firmare il tuo CD o magari che piangono perché le tue canzoni gli hanno lasciato tantissime emozioni e bello. Ho incontrato tanti ragazzi in giro per l'Italia ed è una soddisfazione a ogni store. Grazie a tutti.